I controlli sono sempre più serrati e incisivi, ma il consumo di droga continua a essere diffuso nelle province di Lecco e Sondrio. La fotografia emerge dai dati diffusi dal Ministero dell'Interno sull'attività nel 2018. I numeri sono più alti in Valtellina e Val Chiavenna. 78 le operazioni condotte dalle forze dell'ordine che hanno portato al sequestro complessivamente di 9,5 kg di droga. Fra le sostanze, il quantitativo più ingente alla marijuana, circa 8,5 kg più 110 piante. Sequestrati anche mezzo chilo di cocaina, 70 g di eroina e 3 di droghe sintetiche. 100 le persone segnalate, tutte con l'accusa di traffico. Fra loro 21 minorenni e 6 donne, il 25% sono stranieri, un dato al di sotto della media regionale. In provincia di Lecco invece sono state 70 le operazioni antidroga condotte dalle forze dell'ordine. Circa 6,5 kg le sostanze sequestrate, la metà di marijuana, incluse 227 piante. Recuperati quasi un chilo di droghe sintetiche, mezzo chilo di cocaina e 3 g di eroina. 147 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, tutte per il reato di traffico. Di queste la maggioranza è straniera, 8 i minorenni, 7 le donne. Nelle due province si è registrato un solo decesso per abuso di sostanze stupefacenti ed è avvenuto in provincia. Le operazioni condotte a Lecco e Sondrio sono circa il 2% di quale portate a termine in abito regionale. Il peso della Lombardia a livello nazionale è elevato su 100 operazioni antidroga in Italia, 16 sono condotte nella nostra regione. Preoccupa l'incidenza della presenza di stranieri nella gestione del traffico. I denunciati a livello regionale sono il 60% del totale. In aumento rispetto al 2017 i sequestri di eroina, cannabis e droghe sintetiche. I decessi sono stati 32 valore più alto registrato nella nostra regione dal 2010 a oggi.